Musica Terre, sapori e vini ancora in vostra compagnia amici cari con gli aggiornamenti, i viaggi, le avventure ma soprattutto con i grandi sapori del nostro bel paese abbiamo raggiunto nuovamente il Piemonte la provincia è quella di Asti e siamo a Pino d'Asti come comune come un giovane produttore di vino biologico, Luca Ferrero Ciao Luca, grazie per aver aperto le porte della tua realtà produttiva questa è terra soprattutto di un vino famoso piemontese che è il o la Freisa? dibattito, si può dire sia il che la Freisa vino Freisa esatto, diciamo così, intanto grazie a voi per essermi venuti a trovare qua noi siamo vocati a Freisa per Antonomasia quest'anno è il 500esimo anno di Freisa che è apparsa ufficialmente sui documenti e infatti ci sono state varie manifestazioni per celebrarla il Freisa che è un vitigno speculare al nebbiolo, questo è importante farlo sapere al 90% dei tratti genetici speculari al nebbiolo da qui la possibilità di incominciare a far capire al consumatore la necessità nostra e la possibilità di fare un vino importante bene, ho detto Pino d'Asti, territorio storico, qui sono passati gli Avogadro, sono passati Savoia ci sono delle testimonianze, si vede l'arco alpino, le Alpi, si vede la collina di Torino abbiamo citato questo vitigno e questo vino importante 5 secoli, tu ne produci due tipologie due tipologie, siamo rimasti con una tipologia che a me piace definire classica che è quella che il consumatore conosce come Freisa che è una vinificazione vivace, rigorosamente a rifermentazione naturale un po' più amabile a tutto pasto poi invece una versione un pochino più... abbiamo una versione che noi amiamo definire d'eccellenza della nostra azienda mi piace dire nostra perché comunque c'è sempre la famiglia dietro che mi sostiene ed è una Freisa superiore quindi vinificazione ferma, lieviti indigeni sempre un anno e mezzo di affinamento in barrique esausti di rovere e adesso circa 6 mesi di bottiglia prima della commercializzazione Freisa ma non solo, Malvasia? Malvasia, l'altro vitigno storico di queste colline e di queste zone noi abbiamo l'antico vitigno di Schierano da cui dopo anni di produzione di Malvasia dolce negli ultimi due anni ho creato questa vinificazione nuova che è una Malvasia all'80% blendizzata con Freisa al 20% che meraviglia e ci dà questo spumante rosè adatto ad aperitivi piatti delicati di pesce ma anche pasticceria secca fine pasto quindi molto versatile bravo Luca tra l'altro io non l'ho detto, lo dico ora cade il prete e la realtà produttiva ho detto appunto biologico, questo è importante abbiamo qualche secondo ancora, rubiamo un attimo Barbera perché ne fai un po' sì, facciamo anche un pochino di Barbera purtroppo siamo falcidiati come tanti amici e colleghi dalla Flavescenza quindi noi cerchiamo di mantenere un minimo di produzione quello che ogni anno riusciamo a raccogliere cercando di mantenere il vigneto in vita per il momento ci stiamo riuscendo però non sappiamo del domani facciamo festa hai voglia di aprire quella bottiglia di Malvasia? come è andata la vendemia? benissimo perfetto, grazie a Luca Ferrero grazie a Cadel Prete alla regia di Pietro Marcellino sempre attento Pino Dasti la località beh, Freisa, Malvasia e Barbera grandi vini di questo grande territorio amico caro, grazie ancora cin cin beviamo bene, beviamo italiano